Lo sport dell'anno è sicuramente il padel e Giulianova sarà protagonista con un torneo di primissimo livello dal 4 al 12 settembre e sui campi del Kiko Padel di Giulianova con il maestro Fabio Forà che è uno degli organizzatori e che ringrazio di essere qui con noi tra l'altro ci sarà anche il campione italiano Marcello Capitani Cosa vedremo qui a Giulianova? Sicuramente spettacolo, il padel di per sé è uno sport molto spettacolare giocato ad alti livelli è sicuramente uno sport difficile da praticare però come dicevamo altre volte è uno sport che è semplice da iniziare ci si diverte subito e speriamo con questo torneo di attrarre più persone possibili in questo sport spettacolare ma al tempo stesso semplice Organizzato dal maestro Fiorà ma non solo Ma non solo, dal amico di Uveranno il maestro Alessandro Gasperrini e il nostro socio Marco Fraticelli Campione italiano Capitani lo abbiamo detto ma ci sarà anche Chiara Pappacena che è la vice campionessa italiana Sì, tutti gli atleti d'Italia hanno mostrato un grande interesse per questo torneo perché è un torneo con un grande monte premi, con uno sponsor molto importante come Amadori speriamo di avere tante tante coppie forti Speriamo